La pubblica amministrazione, i suoi gangli vitali, i limiti e difficili rapporti con i cittadini. Questo è l'argomento della settima puntata della ventesima stagione di Vesperi, in onda a partire da oggi sulla nostra emittente. Sullo sfondo le novità legislative, le responsabilità, i rapporti tra politici e dirigenti pubblici, ma burocrazia non è una parolaccia, ha detto Carmelo Burgio, ex segretario generale del Comune di Sciacca. Dico che c'è una buona burocrazia e c'è una cattiva burocrazia. Questo per dire che tutte le cose camminano chiaramente sulla organizzazione che si dà e sulle gambe degli uomini, quindi sulle qualità personali delle persone che sono deputate a dare queste risposte. Con tutti i mezzi che poi chi deve controllare ha per poter far sì che chi lavora bene, venga, diciamo così, continua a svolgere la sua attività e magari anche gratificato. Ecco, questa è una cosa importante. E chi non lavora bene non venga gratificato. A nome degli utenti Lilla Piazza ha ribadito i concetti di cittadinanza attiva, quelli che invocano da anni un ampliamento delle responsabilità e una condivisione maggiore da parte di chi deve apporre una firma su di un'autorizzazione. Noi siamo stati fautori della legge sulla trasparenza, sull'ufficio di relazione con il pubblico. Tutto quello che c'è sulla trasparenza, sulla partecipazione, la democrazia partecipata, viene tutto dalla cittadinanza attiva che praticamente è un'idea del figlio di Aldo Moro, Giovanni Moro, che ha creato questo movimento proprio per formare cittadini e poi per poter avere gli strumenti per dialogare con le pubbliche amministrazioni, avere la capacità di intervenire quando anche la politica oppure la pubblica amministrazione, la burocrazia non funzionano. Presente alla puntata odierna anche l'attuale dirigente del settore economia e finanze del comune di Sciacca, Filippo Carlino, il quale ha detto la sua sia sul piano ufficiale sia su quello personale. Secondo me l'importante è riuscire a far capire subito che le cose debbono obbligatoriamente, con la ragionevolezza che bisogna mettere sempre le cose in un certo modo, proprio perché di fronte a determinate situazioni che ormai sono cambiate, il rischio di un passo falso e quindi con le responsabilità, perché oggi il tema della responsabilità è pure un tema importante, quindi la garanzia degli equilibri. Che è la Bassanini che ve l'ha data un po' questa, la responsabilità passata ai dirigenti. Quindi diventa una questione fondamentale, quella di mettere subito in chiaro che l'ufficio deve svolgere una sorta di attività, giustamente deve collaborare, colloquiare e conoscere anche l'intenzione della politica, però se le risorse finanziarie sono quelle che sono, noi sappiamo che il contesto è molto critico, non possiamo fare il passo più lungo. Un tema è quello dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini che, come ha fatto notare il giornalista Filippo Cardinale, è al centro della vita pubblica. La macchina amministrativa nel suo complesso è l'ente pubblico che funziona se ambedue le parti, la parte politica e la parte burocratica, trova sintonia e trova sinergia e trova una comunione di interessi. Ma è pure vero che spesso la classe politica propone, per ignoranza nel vero senso della parola, nel senso puro, proposte, propone atti o idee che vanno al di là di ciò che consente la legislazione, per cui la burocrazia e il dirigente è obbligato a intervenire per calmare un po' la politica.